Ehi, ti aiuto io, amico! Cassetta medica, ecco! Nemico! Nemico! Posso curare le tue ferite! Le tue ferite! Posso curarle! Posso curare le tue ferite! Ehi, ti aiuto! Ehi, ti aiuto! Ehi, ti aiuto! Cassetta medica, eccola qui! Cassetta medica, eccola qui! Ehi, ti aiuto! CASSETTA MEDICA PER TE! Hai capito? Grazie! Granata in volo! CASSETTA MEDICA Posso curarti? Ecco una cassetta medica. Là c'è un attentatore nemico! CASSETTA MEDICA Come on, get them! CASSETTA MEDICA CASSETTA MEDICA Ecco una cassetta medica! Ecco, cassetta medica! CASSETTA MEDICA Vuoi che ti curi? Ti rimetterò in sesto io. Cassetta medica, arriva! Cassetta medica, rimettiti in sesto. Vuoi che ti curi? Voi che ti curi? Voi rimettere. Cosa che prodigna? Sì! Conquistiamo l'obiettivo! Posso aiutarti! Una granata! Attenzione! Forza con la cassetta medica! Ho visto un medico! Medico nemico! Ehi! Vedo un ricoglidore nemico! Posso aiutarti per quelle ferite! Cassetta medica per te, amico! Aspetta! Ricambio l'obiettivo! Per cui è abbastanza! Ehi abbastanza! Ehi abbastanza! Ciao, ciao! Per cui è arrivata! Per cui è arrivata! Una granata! Per cui è arrivata in giro cheه... ... Cassetta medica, arriva! Questa è una Cassetta medica! 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 Ho visto un soldato! Un soldato... Questa è una Cassetta medica! 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 C'è un assaltatore! Raggiù! Un assaltatore nemico! Posso aiutarti! We have taken Objective Apples. We have taken Objective Apples. Se vuoi posso sistemarti quelle ferite. Forza con la cassetta medica! No! Ora ti curo! Cassetta medica, ecco! Lascia che curi le tue ferite! Ricognitore! Ricognitore! La! Un ricognitore nemico! Cassetta medica, eccola qui! Grazie, finito! We have taken the Sector. Non diamogli tre! Clear the Sector from Enemy Presence. We have secured the Sector. Conquistiamo quell'obiettivo! Grazie a tutti.